Bene, vi ho presentato già gli ospiti prima della pausa, li ripropongo per chi si fosse messo in nostro ascolto solo ora. Si tratta di Don Davide Longo, parroco della parrocchia della trasfigurazione di San Giovanni Rotondo, e di Floriana Natale, che nell'ambito della parrocchia ha diverse attività dal punto di vista catechistico e anche dal punto di vista socioculturale. Di nuovo benvenuti, abbiamo ascoltato un po' il riassunto di quello che è stato vissuto ieri sera a Don Davide, anche uno stralcio della tua omelia nella quale ti sei soffermato sulla figura di riferimento della serata a Sant'Antonio da Padova e su quella che è la realtà dei giovani, e dei giovani vogliamo parlare questa mattina. Ecco, le tue impressioni, la tua esperienza, cosa ti porta a dire circa questa realtà? Bene, intanto voglio dire che Sant'Antonio è un santo a me molto caro, lo conoscevo poco, poi l'ho conosciuto perché adesso sono parroco alla trasfigurazione, ma io sono stato parroco a Sant'Antonio di Padova a Peschici, quindi mi ha incuriosito anche un po' la sua figura. Di un uomo, lo diceva anche il giovane in collegamento, Marco Greco, tenace, che ha messo al centro anche il senso della vita. E credo che questo va rilanciato oggi nell'ambito del mondo giovanile. Finito il tempo delle grandi ideologie che hanno lasciato il cuore vuoto, oggi siamo nel tempo della tecnica, della tecnologia avanzata, che sembra mettere tutti in collegamento, in realtà ci fa scivolare tutti in una solitudine sociale, diciamo, virtuale. Credo che oggi i giovani debbano imparare molto l'arte della vita, imparare a vivere. E noi adulti abbiamo questa grande responsabilità, insegnare a vivere vivendo, comunicando con una relazione viva, dialogica, attenta, fatta di vicinanza. Papa Francesco parla della fraternità e delle relazioni come un luogo mistico, vivere la mistica delle relazioni, la mistica della fraternità. Credo che questo sia il campo di prova, il campo concreto dell'annuncio del Vangelo, libero da realtà rigide e istituzionali, ma puntare molto su questo dialogo, su questa relazione, su questo senso di vicinanza. Credo che sia molto importante oggi andare dai giovani, come dire, disarmati, solo con la forza della propria umanità e, per dirla, con Sant'Antonio, anche con la forza della sua spiritualità intrisa di tanta sapienza e di tanta dottrina anche. Ecco, Don Davide, è bella questa tua espressione relativa all'arte della vita da insegnare ai giovani. Giovani che nell'ambito del sociale possono essere coinvolti in diverse attività. E questo è un po' il compito anche di chi affianca i parroci nelle diverse tante attività parrocchiali. In questo caso, Floriana dà un contributo importante anche dal punto di vista culturale. C'è molta attenzione, e questo bisogna sottolinearlo da parte del parroco, nei confronti del sociale. Allora, quali sono le attività proposte all'interno della parrocchia? Sì, in effetti partiamo proprio da questo ultimo elemento, l'attenzione del parroco, che è fondamentale perché da lì si parte per poter poi concentrare l'attenzione su quelle che poi possono essere le varie attività. Sicuramente un'attività particolare è legata al mondo dei disabili. Lì c'è proprio la volontà di creare sinergia tra questo mondo e comunque i giovani ragazzi che appunto possono imparare l'arte del vivere proprio avvicinandosi a quelle che poi sono le realtà concrete. Inoltre noi partiamo proprio già da quando i bambini sono più piccoli, a cercare di sensibilizzarli per poi tutte quelle che sono le attività appunto sociali. Uno sguardo costante è posto al mondo del diritto, dei diritti, dei doveri e quindi ai problemi che sono relativi al mondo del bullismo, del cyberbullismo. Tutte questioni che noi affrontiamo attraverso incontri, momenti chiaramente anche leggeri, legati poi alle singole fasce d'età naturalmente. E anche in questi eventi incontriamo la sinergia delle diverse fasce d'età perché io ritengo che non si possa costruire il futuro dei giovani partendo dai giovani ma è probabile che gli effetti li possiamo avere se questo atteggiamento di sensibilizzazione noi lo poniamo in essere a cominciare come dire da quell'età più fertile e quindi già se vogliamo anche dalle scuole elementari per poi arrivare al mondo dei giovani con un bagaglio potremmo dire socioculturale più strutturato. È importante questo aspetto che amplia e crea questa formazione a 360 gradi che le parrocchie garantiscono soprattutto quando appunto c'è la sensibilità da parte del parroco ma rispetto a quello che è poi anche il tema principale di queste serate la preparazione della giornata mondiale della gioventù un momento sicuramente fondamentale anche e soprattutto di preghiera Don Davide, ecco un tuo appello perché questi momenti sono importanti per i giovani? Ecco, come si possono vivere nella maniera più adeguata? Beh, certamente sono delle opportunità di vita bisogna saperle cogliere e bisogna saper andare in profondità La GMG sicuramente è un momento di aggregazione mondiale dove l'esperienza vitale di tanti giovani da tutte le parti del mondo è sicuramente una ricchezza che ricade nel suo giovane stesso ma anche sull'intera comunità ed è importante vivere questi momenti con una semplicità di vita e con una prossimità concreta nei confronti degli altri credo che i giovani possono dare molto e sono sicuramente un potenziale da questo punto di vista Un potenziale sociale sul quale, a differenza di età ecco, si può lavorare anche all'interno delle parrocchie e questo anche l'attività stessa testimoniata da Floriana ne è un esempio Allora, in conclusione, quali possono essere i prossimi eventi nei quali sarete protagonisti? Immediatamente abbiamo a fine maggio ecco, proprio rispetto alla volontà di coinvolgere anche i più piccoli abbiamo il concerto dedicato alla Madonna che partirà proprio da un gruppo di ragazzi che vanno dalle a quinta alle scuole medie e quindi il 31 maggio noi chiuderemo il mese Mariano così ma ci stiamo preparando anche per un recital che si pone proprio con una particolare attenzione ai temi appunto del bullismo quindi quello già per l'età un po' più adulta, diciamo grandina, insomma, per i ragazzi Sì, volevo dire che venerdì 12 nel salone parrocchiale ci sarà il responsabile regionale della comunità di Sant'Egidio Corrado Petracchi che ci presenterà la mission della comunità di Sant'Egidio che il Papa ha definito la comunità delle tre P preghiera, poveri e pace e quindi un appuntamento importante per riflettere sulle realtà sociali intrise di quella spiritualità evangelica che la comunità di Sant'Egidio sta, come dire, rilanciando nel mondo e soprattutto nei luoghi un po' difficili dove sono in atto focolai di guerra E' certamente una realtà che lascia il segno ovunque si trova una bella possibilità di confronto e di crescita quella proposta appunto nell'ambito anche della vostra parrocchia Allora io vi ringrazio intanto per essere stati qui con noi ci farà piacere ovviamente in futuro magari anche come dire approfondire ulteriormente alcuni dei temi che abbiamo solo accennato quest'oggi e intanto nel salutare Don Davide Longo e Floriana Natale vi ricordo che questa sera si alternerà un'altra realtà di San Giovanni Rotondo nell'ambito del nostro Santo Rosario la parrocchia di San Giuseppe con Don Nicola Castriotta e il tema sarà legato alla GMG di Santiago quindi vi invito a restare sul nostro canale e tornarvi questa sera per il Santo Rosario grazie Don Davide, grazie Floriana grazie a voi ci fermiamo per qualche istante e poi proseguiremo con il nostro programma